IDIOTA! Se non trovi un sostituto che sia la coppia perfetta di Guillermo, sei licenziato! Oh cacchio, e che faccio se mi licenziano? Dovrò tornare al mio vecchio lavoro di modello alla Calvin Klein. Io non voglio essere come tutti gli altri. Sì, ma non voglio essere diverso. Io voglio solo essere. Come si chiamava il cattivo del film Tron? Oh cacchio, è una cosa che mi manda ai pazzi. Peter, Brian, per favore, godiamoci una bella passeggiata in macchina e in famiglia, come facciamo sempre. Sì, a parte quella volta che poi hai investito quel capriolo, ti ricordi? Ecco, vede, è soltanto una maccatura. Non c'è ragione di coinvolgere le assicurazioni per questa sciocchezza. Io credo sia meglio che lei mi dia i suoi dati. Lei dice? No, perché basterebbero un paio di cornate e tornerebbe come nuovo. Sì, d'accordo. Io me ne intendo di queste cose. Guardi, mi sentirei meglio se lei mi desse i suoi dati. Ok, chi ha appetito? Oh cacchio, come diavolo faccio a dirglielo a Lois? Se scopre che mi hanno licenziato perché ho bevuto, dirà che è colpa mia. Mentile! È consentito mentire alle donne. Non sono persone come noi. Beh, non lo so. Dov'è il tuo collega? Andiamo, bastardi! Farò tardi al lavoro. Oh, ecco, stupendo, perfetto. Oh Meg, ecco la tua prima lezione. Devi sempre essere consapevole delle altre macchine sulla strada e se per caso a un semaforo incroci lo sguardo con il tizio a fianco dovrai gareggiare con lui. Ed è proprio quello che vuole l'amico. Ma papà! Cacchio, non le faccio io le regole tesoro. Vai col gas, bella. Ok. Quello è mio marito! Ti l'avrebbe mai detto. Metà uomo e metà macchina. Con quella nuova tecnologia potrei liberarmi di queste due vecchie streghe. Terminali Cyborg! Vai! Anche se non sei riuscito a buttarlo fuori strada è stato un ottimo lavoro. Oh, i miei denti! Sono libero, libero! Prendo possesso di questa bocca in nome di sua mestà l'incisivo! Freda, cocchino! Il premorale! Ci si incontra di nuovo! Fatti sotto! Ehi guardia! Vogliamo mordere la lingua allora? Al tre! Uno! Due! Ah! Beh, se vuoi fare l'eroe questo potrebbe essere il tuo momento. Cacchio, Brian, non è così che me l'aspettavo. Pensavo che fare l'eroe sarebbe stato divertente. Sfiacente, Wonder Woman, ho tre re. Ora vediamo la tua coppia. E vai! Robin, perché stai guardando me? Guarda lei! Venite, sta per cominciare la nuova puntata di Basta Notto! Oh, Mary, hai per caso visto Nicholas? È su nella sua stanza col muso lungo, papà. Sì, ha ancora i nervi perché Abby gli ha scombinato le figurine del baseball. Oh, beh, allora sarà il caso che gli faccia un sandwich. Papà, è la tua soluzione per qualsiasi cosa. Papà! Papà! Cosa? Bastano otto! Oh, sapete, vi adoro, ragazze! Che dolore! La mia vita è finita! Sono la più grande perdente di tutti i tempi! Oh, lo so come ti senti, zuccherino. Anch'io ho avuto la mia dose di delusioni. È una bambina! Potrebbe mica controllare di nuovo? Joe, amore, ti presento la nostra vicina, Lois Griffin. Piacere di conoscerti, Lois. Chi è questo bel giovanotto? Lui è Stewie, tesoro. Su, di ciao al signor Swanson. Inchinati di fronte a me, mascellone! Non posso credere che tu abbia dato la colpa a tua figlia! Meg, batuffolina, lo so che quanto ho fatto hai sbagliato e so che non è la prima volta che ti metto in imbarazzo. E se addizioniamo le misure degli angoli di un triangolo rettangolo, la somma che otteniamo... Ehi Meg, ti spiace lavare la doccia la prossima volta che ti depili le gambe? È una moquetta là dentro! Oh cacchio, Lois sta facendo amicizia con i nuovi vicini. Forse vuole presentartelo. Ah, vuole sempre farmi fare la vita sociale. Cocktail, manifestazioni scolastiche, quella volta che abbiamo piantato alberi a Gerusalemme. E allora? Insomma, sto semplicemente dicendo che non c'è nessuna differenza mettere un israeliano vicino a un aro. A tutte le unità, rapina in corso alla banca di credito di COAG. Attenzione, i sospetti sono armati estremamente pericolosi. Perfetto! Dove sono Lois e i ragazzi? A casa di Joe. Allora valli a recuperare, stanno per vedere in azione un autentico eroe. Alla Batcaverna! Oh oh! Oh mamma! Oh mamma! Mamma! Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! Un Britney! Ero! Oh mamma! I sono e girato! Èfree Stanley summer! Permane, un prooborneaki di K quoi? È tutta, suquarterfora che queremos dare ancora per cambio investigations. Ero! Creda live!